Chi come me si occupa di fare consulenze, progetti per giardini, ci tiene al risultato finale. Il punto è che non sempre questo risultato viene rispettato alla lettera e ci sono persone, ci sono colleghi, colleghe che magari ci rimangono molto male per questo, perché non si rispecchiano nel progetto, nel prodotto finale. Ci sono chiaramente casi in cui non rispettare delle indicazioni di progetto può essere anche illegale, cioè banalmente se tu progetti sistemi di sicurezza è chiaro che il non rispettarli non depone a tuo favore come cliente. Ma alla fine non sempre il non rispettare un progetto iniziale fatto da una figura professionale come può essere la mia, significa che quel progetto non è stato apprezzato. Io sono Francesco Cecchetti e questo è Giardino Rivelato, il podcast per chi pensa che abbiamo tutti bisogno di un giardino in cui stare, in cui sostare, in cui gioire, in cui annoiarci e poter osservare le foglie e noi stessi a contatto con la natura. Un giardino in cui sentirci a casa, in cui sentirci in relazione con il mondo che ci circonda e questa cosa è l'aspetto fondamentale per il mio lavoro. È il motivo per cui io faccio questo lavoro, per cui io progetto giardini, faccio consulenze, è per rapportarmi con le persone che in quel giardino ci vivranno. Io ci tengo chiaramente il risultato finale, ci tengo che il giardino rispetti la ricchezza del percorso che c'è stato, che ha portato al risultato finale. Ma mi è capitato che non sempre quel giardino poi venisse realizzato nel modo dettagliato in cui io avevo suggerito che venisse fatto. Chiaramente con una consulenza è più facile che avvenga questa cosa rispetto a un progetto con dei dettagli tecnici. C'è stato un caso, e ne parlo perché in questi giorni ho ricevuto delle foto sull'avanzamento dei lavori, di un giardino che è nato come consulenza in collaborazione anche con un mio collega e caro amico con cui mi trovo molto bene e che è stato un giardino fatto a distanza. In pieno lockdown, un giardino realizzato in Madagascar, sulla costa nord dell'Oceano Indiano, sulla costa nord del Madagascar, sull'Oceano Indiano, con 5.000 km di nulla, o meglio di mare e salsedine davanti prima di toccare terra. Ed è un giardino molto interessante perché è un luogo che fino a qualche mese fa era un po' disordinato, un po' parecchio disordinato, non proprio elegantissimo, ma è un posto privato che però funge anche da parco pubblico per le persone del quartiere. Non è un quartiere propriamente ricco, ma lì ci vanno a giocare i bambini, c'era un campo da tennis, un campetto, un piccolo prato da golf, dei posti in cui i bambini vanno a giocare, in cui le persone si ritrovano per vedersi, ma anche un posto di rappresentanza. Insomma, un luogo un po' misto, molto amato dalla comunità locale. Quindi questo progetto nasce con una comunicazione, con uno scambio. È durato mesi e mesi e mesi in realtà questo lavoro, mesi di consulenze che poi sono diventate un progetto a tutti gli effetti, con dei dettagli, ma questo progetto nasceva innanzitutto dalla conoscenza reciproca. C'era la mia intenzione di originaria, sai, quando ti parlano di un giardino, sai, devo fare un giardino, non lo so, immagina un luogo, ecco, immagina lì, tu vai lì con un tuo carico di pregiudizi e idee, non pregiudizi negativi, ma di idee sull'immaginario che ti porti di quel luogo. E chiaramente io immaginavo una foresta, una cosa ricchissima, lussureggiante, invece lì, siccome se non ci mette mano l'essere umano diventa davvero tutto una foresta lussureggiante, e in realtà in gran parte del Madagascar ce ne sarebbe bisogno, c'è bisogno, c'è voia, c'è desiderio di un giardino un po' più formale, con delle geometrie più evidenti, per mostrare un'armonia tra ciò che la natura fa e ciò che l'uomo è in grado di realizzare con la natura. E quindi c'è stata una danza, vera e propria, un aggiustarsi nei mesi, con alla fine dei progetti finali, dei disegni finali. E una realizzazione che è stata fatta a step, a cui ha partecipato anche la gente del posto, anche i vicini, anche, insomma, è stato, veramente, mi è stato raccontato che è stato quasi come una festa, sono andati sia le autorità locali che le persone del quartiere vicino, i bambini, e l'altro giorno ho ricevuto queste foto di gente che gioca a tennis, bambini che si inseguono tra i muri, sia muri reali di mattoni che di vegetazione, e notavo, mentre vedevo i video e le foto, le cose che sono state cambiate rispetto a quelle che nel tempo avevamo concordato, che avevamo raggiunto, perché è un percorso comune che si fa nella progettazione, ma sono stato contento perché ho visto che l'hanno fatto loro, ho visto che il successo di questo luogo è dato proprio dal fatto che è amato dalle persone che ci sono e che le persone che mi avevano chiamato all'inizio e magari non avevano idea di come realizzare delle cose, hanno avuto un trampolino per fare un salto enorme e aggiungere delle cose loro al progetto. E quindi è una creatura combinata questo giardino e mi ha entusiasmato, mi diverte, è bello vedere che stanno continuando a piantare, stanno continuando ad aggiungere delle cose. In realtà è solo un terzo del giardino che è stato realizzato perché erano un terreno abbastanza grande e manca ancora tutto il frontemare e quindi sono curioso, sono curioso di vedere quello che succederà e questo lo dico a te che magari puoi essere, puoi avere interesse a fare, iniziare un percorso di consulenze. Ti dico che questo è il mio modo di agire, questo è quello che intendo quando parlo di giardini e del fatto che abbiamo tutti bisogno di un giardino. Cioè un giardino è un posto in cui tu devi vivere e devi accogliere la vita che ti sta intorno, le persone. Un giardino deve farti venire voglia non solo di proteggerti dal mondo esterno, ma di proteggere più persone possibili dal mondo esterno, di creare un mondo in quel giardino. E questo si può fare con il tempo e lavorando insieme, lavorando sulle proprie forze, sulle proprie passioni, sulle proprie fisime, su tutti i preconcetti che abbiamo. Io sono un progettista, ma non sono un esecutore. Mi è capitato di avere delle persone che mi chiedessero, guarda io lo voglio così, così, così e così e mi devi fare il disegno. Ma non è il mio lavoro, non è quello che mi interessa. A meno che quello che mi viene proposto non sia straordinariamente interessante, ma trovo sempre che laddove c'è volontà di comunicare, volontà di crescere e di far crescere le proprie idee sul giardino per poterci stare bene, beh allora il lavoro che nasce fuori è straordinario. Se ti interessa fare delle consulenze con me, puoi farlo cliccando sul link a giardinorivelato.it e lì poi c'è il pulsante per prenotare le consulenze. Quindi ecco vorrei sapere tu che ne pensi di questa cosa, che ne pensi del fatto che un giardino non è solo del progettista. È chiaro che il mio ruolo da progettista, da consulente è quello di farti capire che un giardino ha una serie di equilibri non solo estetici, non solo funzionali, ma anche ecologici, anche artistici, anche storici. Un giardino può portare tantissima ricchezza nella vita delle persone e può sottolineare la ricchezza della vita delle persone che già hanno e che magari non vedono. Quello è il mio ruolo. E rispettare un progetto significa rispettare questa ricchezza con tutta una serie di accorgimenti che poi possono essere fatti, come dire, rompendo, sapendo quali regole rompere. Ecco, il mio ruolo di consulente è quello di aiutarti una volta che avrai un giardino a capire come sentire la libertà di fare quello che pensi sia meglio nel tuo giardino e farlo insieme, insomma. Quindi appunto lasciami un commento qui sotto, fammi sapere che ne pensi e se vuoi dare una mano a questo podcast puoi farlo condividendo questo episodio con persone che pensi abbiano voglia di discuterne oppure persone che pensi possano voler fare una consulenza vogliono sistemare il loro giardino. Mandagli questo podcast e invitali a commentare qui sotto. Anzi, invita te stessa e te stesso e tutte le persone che conosci a iscriverti a questo canale su tutti i canali possibili, immaginabili, a mettere stelline al massimo perché se le metti, non so se sai questa cosa, che se metti tre stelline a un episodio è come se avessi messo zero, vale solo cinque o il massimo che sia. Quindi se vuoi dare una mano a questo podcast tutti dieci, nessun diciotto, no tutti dieci nessun sei. Inoltre se pensi che sia proprio una bella cosa giardino rivelato puoi fare tanto per questo progetto sostenendo mi, sostenendo il podcast su Patreon con una donazione mensile che trovi la possibilità di farla cliccando al link che sta qui nella descrizione dell'episodio e questo per poter far arrivare il podcast a più persone possibile e in maniera gratuita. E infine ti ricordo, come ho già detto poco fa, oggi mi mangio le parole, che puoi venirmi a trovare su giardinorivelato.it e lì non solo ci sono i modi per rimanere in contatto sui social ma anche per lavorare insieme con delle consulenze. E a questo punto io ti ringrazio e grazie di aver passato questo tempo con me a chiacchierare con la scusa dei giardini.